Il ping pong è molto più di un gioco. Ne è convinto Guido Mina di Sospiro, docente universitario italiano trapiantato in America, che ha scritto la metafisica del ping pong, edito da Ponte Alle Grazie, divenuto un caso auditoriale oltreoceano. Perché il ping pong è uno sport metafisico? Perché fa un uso impressionantemente grande dello spin che ricorre all'effetto Magnus, che è un effetto della fisica, grazie al quale tutte le palline praticamente sono lanciate con una parabola, con la palla che fa tremende rotazioni su se stessa e che cambia sia la traiettoria della pallina, sia il rimbalzo, sia il rimbalzo sulla racchetta. E quindi è unico come sport, non c'è nessun altro sport in cui lo spin abbia tanta importanza. Cosa può insegnare il ping pong? Molto. Se si è fatto seriamente, come è successo a me, e in maniera non premeditata, diventa un percorso iniziatico, perché almeno ho avuto la fortuna di confrontarmi con questi giocatori cinesi che sono veramente bravissimi e quindi ho imparato dai maestri, ho imparato da gente che gioca ping pong da quando è nata praticamente. Ed è un percorso iniziatico molto faticoso in cui si diventa maestri di umiltà, perché si prendono tantissime batoste, non si riesce mai a vincere un punto, è una cosa infuriante, però piano piano si comincia a migliorare e poi fino al punto che si diventa praticamente uguali a quelli che prima erano i maestri, quindi è una cosa molto bella a suo modo. Perché è così diffuso in Oriente? Perché dopo la rivoluzione in Cina venne appropriato dal regime come lo sport che veniva insegnato nelle scuole, perché non richiede grandi mezzi, non richiede molto spazio, l'equipaggiamento non è caro, neanche agli altissimi livelli rispetto allo sci o rispetto al calcio, rispetto a... e non ha bisogno di grandi spazi. Per esempio a Pechino ci sono dei parchi interi pieni zeppi di tavoli da ping pong di cemento, in cui i giocatori durante la bella stagione giocano tutto il giorno, invece di passeggiare col cane. Il ping pong è amato anche da personaggi celebri. Beh, nel libro cito Arnold Schoenberg che quando scappò dalla Germania per sfuggire ai nazisti arrivò a Los Angeles, fra l'altro dove prima insegnò la mia università di là e poi a quella di mia moglie, Udessio e CLA e girava in giro per Los Angeles con una custodia da violino ma dentro c'era una racchetta da ping pong perché gli piaceva molto il ping pong e il suo vicino di casa davanti era Gershwin, George Gershwin, anche lui amante del ping pong e quindi giocavano assieme. Più avanti ci fu il famoso incontro fra Henry Miller e Bob Dylan che non andavano d'accordo perché Henry Miller riteneva Bob Dylan un gasato e Bob Dylan riteneva Henry Miller insomma pieno di sé, però invece si incontrarono bene sul tavolo da ping pong, quindi questi due famosi, ce ne sono tanti altri, un articolo della Repubblica ha fatto vedere Robert Redford e Paul Newman che giocavano a ping pong e in questo momento è diventato un po' il gusto del mese almeno in America e anche in Inghilterra perché tante celebrità si sono avvicinate al ping pong, hanno aperto dei club molto shi shi a New York, a Londra eccetera e giocano che ne so a Keith Richards, The Rolling Stones piuttosto che come si chiama Johnny Depp e tanti altri attori e musicisti rock, quindi non molto bene devo dire perché li ho visti, però insomma è diventata una cosa molto di moda in questo momento. Quali sono le origini del ping pong? Nasce in epoca vittoriana come imitazione del tennis e si giocava dopo cena in ambienti eleganti vittoriani a Londra, addirittura mettevano in mezzo a un tavolo, mettevano dei libri che erano la rete e poi addirittura all'inizio giocavano con il tappo di una bottiglia di sughero e usavano, non lo so, le scatole da sigari come racchette eccetera. Poi si è velocemente evoluto, la pallina di celluloide l'hanno inventata già più di cent'anni fa e purtroppo sei mesi fa l'hanno bandita, ahimè adesso è di plastica e non rimbalza molto bene e poi piano piano le racchette si sono a loro volta evolute fino poi agli anni 50 in cui c'è stata la rivoluzione, sono arrivate le racchette di gomma piuma dal Giappone che hanno rivoluzionato il gioco, hanno introdotto lo spin, molto più velocità. In definitiva uno sport per tutti? Io sono entrato in questa fra virgolette avventura, ho girato molti clubs in America e poi da ovunque andassi e sono anche finiti in Cina poi a giocare eccetera e devo dire che ho incontrato persone di tutto il mondo, di tutte le nazioni, di tutte le etnie, di tutte le convinzioni e devo dire che se c'è un posto nel quale ho vissuto di prima mano l'utopia della società senza barriere è il mondo del ping pong, lì veramente l'unica cosa che conta è l'abilità, se uno è bravo è trattato con grande rispetto, se uno non è bravo è trattato con indulgenza e con pazienza perché diventerà bravo e basta, è fatto amicizia con gente di tutti i tipi di tutto il mondo e quindi ho adesso una percezione infinitamente migliore dell'umanità di quanto l'avessi prima che incominciassi in questa avventura.